A fune, vediamo, sono già partiti, vediamo che si isa sulle spalle dei due compagni di cortata, è proprio il caso e con l'ausilio della corda si tiene in piedi, un bel numero da parte di Gian Battista De Martis in compagnia di Marco Calao, il suo urlo risuona qui a Crislo come per significare numero riuscito.